Cerchiamo un punto lontano prima di poggiarla, ruotiamo l'omero all'esterno, mano destra sulla zona occipitale, quindi qui l'errore è cadere lateralmente, quindi quello che vogliamo è spingendo il tappetino lontano e pensare che le costole di sinistra spingono quelle di destra in alto aprendole. E poi ritorniamo, ancora quattro, e ritorno, tre, e ritorniamo, ancora due, il gomito sinistro scende, il destro sale, il gluteo destro è staccato ma è abbastanza stabile, e quindi adesso ci solleviamo, il braccio destro scende in basso per risalire al di sopra della testa e dal ginocchio destro lungo la parte frontale dell'anca destra, le costole, il gran dorsale di destra, ci lasciamo aprire. E ritorniamo lentamente. Ora, prima di passare in posizione prona, se vi va, sperimentiamo quella transizione alcune volte. E abbiniamo una piacevole rotazione della colonna. Facciamo l'ultimo. E quindi ci fermiamo.